Insomma, sulle riunioni civili il traguardo ancora non si vede, la tensione è ancora alta. Quello che sembra certo è che ormai Renzi ha rinunciato a quel tentativo che è stato messo in atto nei giorni scorsi, cioè di arrivare a una qualche forma di intesa con i 5 Stelle. Non ci si riesce, si considerano i 5 Stelle inaffidabili, si vede il loro tentativo di dire formalmente sì alla legge Cirinà, ma poi in realtà chiedere il percorso a ostacoli degli emendamenti, chiedere che tutti gli emendamenti vengano votati, si vede questo come un rischio molto grave che potrebbe portare a una legge come il vestito di Arlecchino, cioè contraddittorio al suo interno, probabilmente ugualmente monca del punto delle adozioni. E allora in questa situazione di incertezza e di ambiguità Renzi cerca di salvare il salvabile con un accordo dentro la maggioranza, quindi dentro il suo partito con l'ala cattolica e soprattutto con i centristi di Alfano, quale Alfano insieme anche al gruppo di Verdini certo ha dimostrato di essere condizionante, Alfano può essere contento dal suo punto di vista di quello che ha ottenuto. L'accordo nella maggioranza passa attraverso il voto di fiducia e passa attraverso, come si è detto più volte, lo stralcio del punto delle adozioni. Questo naturalmente non fa contente tutte le associazioni omosessuali che insistono, che premono sul Parlamento perché la legge che rinna passi nella sua interezza, ma questa è la realtà. Il compromesso Renzi lo subisce, ne avrebbe volentieri fatto a meno, soprattutto perché lui non è il vincente di questo compromesso, e però questo è forse l'unico modo per come si sono messe le cose per portare a casa un qualche risultato. Gli unioni civili anche senza le adozioni sono un risultato importante. Le adozioni sono date a un altro passaggio parlamentare, si sarà un altro tentativo di fare una legge sulle adozioni, per intanto se ne occuperà la magistratura. Sarà la magistratura a decidere caso per caso, come già adesso accade, sulle adozioni di bambini all'interno di coppie omosessuali che però avranno dei diritti che fino a ieri erano negati.